salve ciao a tutti oggi sono il val di fieme scusatemi ma il fiatone fatto un bel po di ore fino adesso adesso mi ritrovo in questa boscana e cercare di trovare qualcosa di buono interessante e farmi una piccola avventura nel bosco come ogni anno vi aspetto che nevica perché mi piace così come vedete ecco qua è tutta un'altra cosa molto più bello c'è chi va a cercare l'albero di natale ma io sto cercando mio albero per fare violini qui oggi nevica abbastanza adesso un po smesso stamattina nevicato un bel po in pratica qui abbiamo i nostri ballegni di risonanza un po la qua già scivola adesso cominciamo a fare i nostri wow sentite la differenza sordo e risonanza molto bello bravo bell'albarello adesso proseguiamo non è finita qua se io quando incomincio ad arrivare qui io penso che un minimo cinque sei nel bosco come li faccio volentieri anche perché non bisogna fermarsi al primo albero che che riusciamo a sentire buono cioè quando una cosa ti soddisfa lo tracci mi dici qualcosa io tramite telefono seleziono la posizione dove l'ho messo così anche più facile può ritrovarlo questo però da un consiglio a chi chi se ne intende un po di tecnologia no ogni albero ha le sue caratteristiche il suo suono la sua bellezza potete immergervi anche voi nel bosco della val di fiemme grazie a val di fiemme che ogni anno mi ritrovo nel suo cuore proviamo a fare un paio di suoni poi magari quelli che sono più soddisfacenti metterò nella raccolta di questo video qua così almeno poi sentite che voi la diversità del suono degli alberi adesso siamo ancora più immersi nel bosco sembra un po più alti immersi nella neve io sono il sito del giornambo e vediamo questa parte di bosco come è messa e come suona ma il primo colpo riesco a capire se la cosa fattibile o meno visto già qualcosa a me piace troppo questo suono ragazzi sto cadendo c'è un necco pazzesco qua dal telefonino non si rende conto ma mi assicuro mi assicuro che il suono c'è c'è un necco pazzesco qua dal telefonino non si rende conto ma ecco qua immersi in un altro bosco questo è il bello della val di fiemme ragazzi la stagione più bella quando nevita fai il giro nel bosco passa il tempo vedi la meraviglia di quello che ti risalva la natura è il bosco che canta wow questo sentite qua questo non so se lo sentite bene sul telefonino vediamo con le mani anche questa è una buona risonanza come vedete io sono sempre in giro ecco ragazzi qua siamo vale di fiemme grazie a tutti